Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Celeste Madre mia, Regine Immacolata, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i cosospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna guiderei tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gesù Gesù Io mi affondo in te Apri le tue mani, Gesù Apri le tue mani, Gesù Io mi abbandono a te Io credo solo in te Gesù Io credo solo in te Io credo solo in te Gesù, col tuo fia d'amore, io amo solo te, tu e me, io e te, Gesù. Gesù, col tuo fia d'amore. Dal libro di cielo, volume terzo, capitoli 29 e 30, 17 e 22 gennaio 1900. Questa mattina il mio adorabile Gesù andava e ritornava, ma sempre in silenzio. Dopo mi sono sentita uscire fuori di me stessa e Gesù me lo sentivo da terco che diceva In molti non c'è più rettitudine. I cattivi dicono, fino a tanto che le cose staranno in questo modo, non potremo avere nessuna riuscita ai nostri intenti. Affettiamo virtù, fingiamoci retti, mostriamoci veri amici esternamente, che così sarà più facile tessere le nostre reti e tirarli nell'inganno. E quando usciremo fuori per predarli e far loro del male, ognuno, credendoci amici, l'avremo in mano, nelle nostre mani. Dopo ciò il benedetto Gesù, volendo un atto di riparazione speciale, pareva che mi troncasse la vita offrendome la divina giustizia. Nell'atto che ciò faceva, io credevo che Gesù mi facesse passare da questa vita, onde ho detto, Signora non voglio venire nel cielo senza le vostre divise. Prima crocifiggetemi e poi portatemi. Così mi ha trapassato quei chiodi, le mani e i piedi, e mentre ciò faceva, con mio sommo rammarico, lui è scomparso ed io mi sono trovata in me stessa. Ho detto tra me, qui sto ancora, ai quante volte me la fate, mio caro Gesù, ed avete un'arte a parte a saperla fare, che mi fate credere che devo morire. E quindi io me la dito del mondo, delle pene, me la dito di voi stesso, che è finito il tempo di starci separati, non ci saranno più intervalli di separazione. Ma appena comincia il riso, che trovandomi un'altra volta legata alle ceppi del muro di questo fragile corpo, dimenticando di aver incominciato a virridere, continuo il mio pianto e gemiti, i sospiri della mia separazione con voi. Ah, Signore, fate presto a venire che mi sento violentata. Dopo aver passato giorni amarissimi di privazione, il mio povero cuore lottava tra il timore di averlo perduto e la speranza, chissà, potessi di nuovo rivederlo. Oddio, che guerra sanguinolento ha dovuto sostenere questo povero mio cuore. Era tanta la pena che ora si agghiacciava ed ora era premuto come sotto un torchio e gocciolava sangue. Mentre mi trovavo in questo stato, mi sono sentita vicino il mio dolce Gesù, togliendomi un velo che mi impediva di vederlo. Finalmente ho potuto vederlo. Subito gli ho detto Ah, Signore, non mi vuoi più bene. E lui Sì, sì, quel che ti raccomando è la corrispondenza alla mia grazia e per essere fedele devi essere come quell'eco che risuona dentro un vuoto, che non appena si incomincia ad emettere la voce e subito, senza il minimo indugio, si sente rimbombare l'eco appresso. Così tu non appena incominci a ricevere la mia grazia, senza neppure aspettare che la compia di dare, subito incominci l'eco della tua corrispondenza. Allora, abbiamo questi due capitoletti che ci pongono dinanzi alcuni argomenti importanti per la nostra vita interiore, in parte per il discernimento, in parte per la nostra vita spirituale. La prima parte del primo dei due capitoli che abbiamo ascoltato è una lamentazione di Gesù che è praticamente una sorta di omelia sul sul suo monito evangelico guardatevi da quelli che vengono da voi in veste di agnelli ma dentro sono lupi rapaci e il seguito dei loro frutti li saprete riconoscere ci dà anche un criterio di discernimento di queste oscure situazioni che sono quelle più sataniche che sono gli inganni, le trappole se molti non c'è più rettitudine e i cattivi dicono che per prevalere bisogna affettare virtù fingersi retti mostrarci amici esternamente in modo che sia facile tessere le reti e tirarle nell'inganno e quando li avremo fatti cadere ormai sarà troppo tardi scampare le nostre mani questo è il vedi un po' dove giunge l'astuzia dell'uomo dice Gesù qui è evidente che fa riferimento è evidente è evidente è evidente più che evidente che faccia riferimento ai nemici della chiesa quindi a coloro che anziché fronteggiarla apertamente manifestamente oppure perseguitarla usano quest'altra tattica si figgono amici per acquisire credito e poi con il loro veleno suddolo ecco distruggerla io lo chiamo ho usato un termine che ho usato anche nelle omedie portandola all'eutanasia solo che mentre l'eutanasia è purtroppo nella vita comune una decisione scelta coscientemente dalla persona di morire in maniera indolore ecco qui questa è un'eutanasia indotta cioè io ti faccio morire in maniera indolore senza che tu te ne accorghi questo è il fine dei dei nemici della chiesa che operano in questo modo e Gesù dice attenzione perché i loro frutti li potrete riconoscere e poi dice che non si raccolge uva dai rovi nei fichi dalle spine no queste immagini l'uva e il fico sono nella sagra scrittura sono immagini della carità e della dolcezza che se superano la prova ecco sono segnali autentici di origine soprannaturale dei comportamenti anche qui però la carità e la dolcezza possono essere simulate e quindi vanno provate bisogna vedere se una persona non è che gioca a fare il dolce e il caritatevole ma lo è e quindi questo si vede quando in qualche modo si supera qualche prova ecco perché è facile essere caritatevole e dolci quando c'è tutto un ambiente di condiscendenza più difficile lo diventa quando ci sono dei problemi in ogni caso ecco questo dobbiamo fare sempre attenzione anche se è un tema molto molto dedicato sappiamo che la carità è autentica quando vado d'accordo con la verità quindi in nome della carità non si può mai andare contro la verità quindi quando qualcuno per esempio che ho fatto prima supponiamo adesso tutte le altre leggi è carità per una persona per compassione delle sue pene ecco darle la possibilità di decidere quando finire la vita evidentemente no perché questa forma di carità seppur dentro certe logiche umanamente comprensibile va contro la verità e la verità è che l'autore della vita è Dio e solo a lui spetta la parola inizio e fine punto ecco quindi così vale in tutte le cose no è molto delicato il tema del discernimento ecco dei falsi buoni e dobbiamo sempre pregare allo Spirito Santo che ci doni senno sapienza discernimento ed anche la capacità ecco di chiedere nei casi di difficoltà qualche buon consiglio perché sembra che questa tecnica insomma che era già in uso nel 1900 ecco adesso sia tutt'altro che caduta in disuso e quindi occorre fare attenzione Gesù chiede riparazione riparazione severa per questa cosa perché trapassa quei chiodi le mani e i piedi di Luisa perché evidentemente è enormemente offeso da tali comportamenti no perché questi comportamenti sono satanici allo stato puro è il demonio che fa così il demonio si presenta in vesti suadenti per trarre in inganno l'uomo e farlo cadere una volta che è caduto è il tema delle trappole vere e proprie trappole che il demonio udisce per questo c'è molto da pregare perché quando le fa bene non è tanto semplice accorgersi dei suoi tranelli dei suoi inganni e a volte insomma purtroppo ci si accorge quando è è un po' tardi nel senso che si è già purtroppo magari commesso qualche errore o fatto qualche danno a causa di trappole non riconosciute come tali ecco poi c'è il il tema della del desiderio di unione con Gesù che caratterizza tutti quanti i grandi santi che qui Luisa sembra stare abbastanza in alto perché manifesta esplicitamente con una certa veemenza il desiderio di morire che è proprio di chi ha profondamente conosciuto la bellezza del Signore per cui la vita della terra le sembra veramente poca cosa noi sappiamo che questo desiderio per essere ordinato anche qui ci sono tante forme disordinate di esercizio di questo di questa disposizione diciamo che di per sé non è negativa però c'è un'anima ecco comincia a dire che vuole morire perché non vuole vivere le prove della vita vuole sfuggire dalle situazioni di sofferenze è chiaro che questo non c'è niente di religioso meno che mai quando si trattasse insomma di un'anima che non ha un tale grado di santità e di purificazione per cui se dovesse Dio non voglia morire è già un miracolo se va un purgatorio insomma a soffrire molto quindi è senza merito a differenza che in questa valle di lacrime quindi anche questo è un desiderio a cui ordinariamente bisogna prestare attenzione perché un conto è quando è esternato e vissuto all'interno di una profonda unione con Gesù cosa che noi non dobbiamo ritenere facilmente per noi stessi ma riconoscere che la hanno alcune anime del tutto privilegiate insomma questo ci fa comprendere però qualora volessimo comunque attingere insegnamenti da queste vicende quanto è importante l'unione con Dio e come la solidità di un cammino la si comprende in base al tasso diciamo così del nostro rapporto con Gesù a quanto ci interessa in tutte le cose che lui sia contento e che i suoi voleri solo si facciano e anche quanto è sincero diciamo così il nostro desiderio di essere uniti con lui solo cosa che presuppone ricordiamolo sempre un grandissimo distacco dalle creature perché c'è questa legge della vita spirituale che o la creatura o il creatore quanto più tu sei attaccato alle creature tanto meno avrai esperienza conoscenza di intimità e di amore profondo col creatore non possono stare insieme queste cose Gesù dice chi non rinuncia a tutti i suoi averi e ci mette dentro il padre la madre la moglie i figli i campi eccetera eccetera non può essere mio discepo e questo non dobbiamo mai dimenticarlo poi nel secondo paragrafetto si apre un altro un altro tema no? primo quello del desiderio di Gesù quando gli scritti di Luisa si vede strano questo fatto qui che nonostante le visite frequentissime reiterate nel corso del tempo che questa santa donna diceva aveva sempre questa come dire questo timore che Gesù come lei dice non ci venisse più questo da un lato manifesta un po' l'umiltà della persona no? il fatto che sente di non avere comunque diritti il fatto che percepisce la grandezza di questo dono e anche la propria assoluta miseria cioè nessuno di noi può meritare di vedere Gesù no? e al tempo stesso ci fa anche però comprendere come la vita è davvero diventa davvero complicata cioè queste anime l'ho già avuto modo di di farlo notare in qualche altra meditazione e le anime che hanno avuto cose di questo genere trovano in esse oltre che la fonte della massima maledizia anche la fonte della massima sofferenza perché se poco poco per qualche giorno Gesù ti priva di una cosa del genere tu non ci stai più cioè il dolore che uno sente è assolutamente immenso e va a concorrere in quella grande offerta di sé come vittima perché i dolori interiori e spirituali sono molto più grandi di quelli fisici no? più grande questo dolore di quello della crocifissione che indubbiamente però è un dolore certamente non indifferente ecco qui però Gesù fa una lezione occasionata da questo consueto diciamo così stato d'animo di Luisa dice attenzione alla corrispondenza alla mia grazia sembra quasi vorrei dire dice sì va tutto bene il tuo desiderio ma ricorda che in questo mondo la cosa più importante non è che io vengo e che sto con te ma è che tu corrisponda fedelmente alla mia grazia questo primo perché questo è il nostro dovere in questo mondo a secondo perché certamente se uno non corrisponde alla grazia se lo sogna che Gesù va a farti qualche visita ecco perché certamente nessuno può meditare una cosa di questo genere ma certamente un'anima ingrata ingrata vuol dire appunto che non corrisponda alla grazia quindi che non accoglie non assegonde non mette a frutto le ispirazioni e i suggerimenti che il Signore dirà nel cuore certamente non avrà frequentemente visita di Gesù e sue consolazioni la corrispondenza alla grazia è un tema importantissimo perché e questo è un come dire dovrebbe essere anche un punto fondamentale del nostro esame di coscienza no e anche questo è un tema interiore a cui dobbiamo piano piano farci attenti ricordiamo sempre che l'ingresso nel regno della Divina Volontà è al tempo stesso l'apertura del grande capitolo della vita interiore dobbiamo entrare dentro noi stessi e cominciare a capire quello che accade dentro di noi a saper riconoscere discernere i pensieri riconoscere un'ispirazione che viene dal cielo una cosa buona e così come riconoscere una tentazione riconoscere un pensiero distorto un pensiero abbalordo un desiderio non ci vuole nulla insomma per come dire per non corrispondere ad una grazia oppure per assecondare una tentazione che a volte viene in maniera assolutamente non immediatamente identificabile no ecco allora noi dobbiamo sempre abituarci quando ci frulla per la testa di fare una cosa cioè di chiedere la carta d'identità al pensiero all'emmozione no forse anche una stupidaggine insomma da dove viene perché a volte anche nelle vicende nelle circostanze comuni della vita ordinaria a volte molto spesso si nasconde un'ispirazione non accolta o una tentazione grossolanamente assecondata e noi su questo dobbiamo fare attenzione e dobbiamo imparare a discernere in linea di massima ci sono dei criteri oggettivi di discernimento che in sede di meditazione si possono anche rapidamente sintetizzare ma vanno approfonditi negli autori spirituali diciamo che sono da secondare ordinariamente i pensieri che chiedono l'esercizio di una virtù un'opera buona a servizio del prossimo un piccolo sacrificio una preghiera in più un difetto da mettere sotto controllo una parola cattiva da trattenere insomma eccetera no in linea di massima però quando vediamo delle situazioni delle scelte di vita noi dobbiamo sempre avere come fine l'unione con la divina volontà cioè questa cosa che sto facendo mi unisce con la volontà divina fa crescere il mio abbandono in Dio la mia fiducia in Lui o no pensiamo per esempio a quante cose noi facciamo per ragioni di per esempio prudenza umana la prudenza umana generalmente questa c'è una sezione degli scritti di San Luigi Maria Monfort credo che sia l'amore all'eterna sapienza anzi senza credo dove per esempio San Luigi distingue tre tipi di prudenza la prudenza della carne la prudenza del mondo e la prudenza che viene da Dio la prudenza della carne è quella che non è la carne soltanto intesa come i vizi impuri si può anche chiamare la prudenza dell'uomo che vive di volontà umana la prudenza della carne la carne pensa sempre al proprio egoismo si preoccupa di sé quindi quando come dire una cosa che ci salta per la testa da fare è come dire mossa da preoccupazione per noi stessi a lì bisogna subito cominciare a fare un alto là per vedere se si tratta di una normale occupazione di noi stessi di un'esigenza legata alla vita comune che non c'è problema o se si tratta di un preoccuparsi disordinatamente di noi stessi poi c'è la prudenza del mondo ecco la prudenza del mondo che è retta dal principio dei soldi la prudenza del mondo è il mi conviene o non mi conviene mi interessa o non mi interessa mi apporta qualche vantaggio o non mi apporta nessun vantaggio è chiaro che se uno si mette a meditare un po' si accorgerà quante scelte quante decisioni vengono prese sulla base di questo criterio è e la prudenza che viene da Dio la prudenza che viene da Dio sono quelle scelte che sono ispirate ad altri fini quindi scelte che sono ispirate dal fine di dare gloria a Dio dare amore a Gesù dare riparazione a Gesù o giovare sinceramente senza tornaconti al bene del prossimo e anche qui c'è la prudenza esercitare perché la prudenza significa etimologicamente la scelta concreta delle cose da farsi sulla base di varie alternative qui gli esempi potrebbero essere certamente infiniti no? diciamo un esempio sciocco in parrocchia alle nove di sera c'è l'ora da adorazione proprio questo è più banale e io mi sento un pochino stanco la prudenza della carne dice dormi una prudenza che viene dall'alto la sapienza dice fai questo piccolo sacrificio e vai all'adorazione tanto per avere un'idea no? ecco e allora le emozioni interiori e i richiami che il nostro Signore ci fa interiormente bisogna fare attenzione quando noi non corrispondiamo ad una grazia si dice in ascetica non sempre commettiamo formalmente peccato però sicuramente sprechiamo una grazia e quindi sprecare una grazia non è una cosa da nulla perché è come dire un mancato passo avanti fatto nella via della santità che comporta che comporta uno un mancato ulteriore perfezionamento di noi stessi e secondo la perdita della grazia successiva perché la dinamica con cui funziona la grazia di Dio che è spiegata da Gesù con quella massima evangelica a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere è questa cioè tu prendi una grazia arriva una grazia una buona ispirazione per esempio quella sera famosa sei andata all'adorazione bravo non hai sprecato quella grazia e quel gesto ti ha come dire fatto fare un passo avanti nella santificazione ecco vuol dire che a partire da quella situazione di passo avanti fatto il Signore ti farà un'altra di grazia capito se non l'avessi accolta saresti rimasto dove stai e l'avevi sprecata e la grazia come dire conseguente questa grazia precedente non l'avresti ricevuta non so se è chiaro insomma spero di sì tutte queste cose ovviamente vanno vissute sempre con estrema serenità e tranquillità interiore cercando di comprendere bene cosa si muove fare la posta in palio e poi con calma agire di conseguenza però certamente l'attenzione dobbiamo portarcela perché le grazie del Signore non vanno Gesù dice quando devi essere come un vuoto se noi ci mettiamo a strillare dentro un burrone qualunque cosa immediatamente torna l'eco quindi che significa significa anche che la corrispondenza alla grazia oltre che perfetta deve essere istantanea immediata se ci facciamo attenti ecco io ogni tanto cerco di farci attenzione e uno se ne accorge è un attimo è capito è un attimo una scelta istantanea che faccio che non faccio fai una cosa sarebbe stata la volontà di Dio fai un'altra cosa e poi a volte il Signore se fai attenzione te lo fa capire che hai sbagliato insomma che hai scelto secondo ciò che è volontà di Dio non era in quel momento questo evidentemente è fondamentale perché vivere nella Divina Volontà oltre a tutte le altre cose significa anche corrispondere in pieno alle sollecitazioni con cui la Divina Volontà nel rispetto della nostra libertà ci indirizza senza farci violenza quindi chiedendo la nostra corrispondenza verso il bene se noi non corrispondiamo chi non ha perderà anche quel poco che ha o che crede di avere dice Gesù è un danno che noi facciamo a noi stessi e possibilmente insomma da questo piano piano dobbiamo imparare a a guardarci e a dissecondare tutti quanti quei pensieri e quelle ispirazioni che abbiamo buoni motivi di ritenere che vengano dal cielo non dalla carne non dal mondo non dal diavolo in realtà poi fa una sintesi tra la sapienza carnale e la sapienza mondana per portarci sempre e comunque lontano dai divini voleri di ritenere Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come dice San Luigi per sventare le trappole, le trame infernali del diavolo, specialmente quelle di cui ci ha parlato oggi Gesù, quando simula, finge, inganna. E siamo soggetti facilmente a cadere come all'occhi nelle sue trame. Anche qui la prudenza, la circospezione, il discernimento, la preghiera, l'unione con te, il ricorso, quando è necessario, il prudente consiglio ci aiutino di persona saggia, il prudente consiglio di persona saggia ci aiutino a... a non cadere in queste spire. Tu che hai schiacciato la testa a Satana non permettere mai che ci inganni, oppure se disgraziatamente fossimo caduti in qualche sua trappola, come ha promesso per i tuoi devoti, faccela comprendere e liberaci sempre dalle spire infernali. Di colui che vuole portarci lontano dalla volontà di Dio e nel suo regno infernale di dolore e di tenebra. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.